Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi parleremo di cordini per borse ed in particolare di un cordino sfumato, un classico della collezione Tessiland che si arricchisce di nuove sfumature. Vediamole insieme. Ecco qui il nostro Taislim sfumato, quindi un cordino 100% polipoprilene sfumato che a differenza del polirestere non dona quel tipico effetto plasticoso, ma rimane comunque lucido e morbido alla lavorazione. Il formato è in rocca da 200 grammi per una lunghezza di 200 metri all'incirca. I ferri consigliati sono quelli dal 3 al 4 e l'uncinetto quelli dal 2,5 al 3, quindi il giusto compromesso per chi cerca un cordino che non sia troppo spesso ma che risulti comunque molto scorrevole alla lavorazione. Le colorazioni per questo cordino sono numerose, insomma anche le sfumature quindi che vedremo sono davvero particolari. La prima che vediamo è la colorazione avocado, quindi si mescola un verde più scuro che va a sfumare in un verde chiaro. Vediamo ora il lime, ananas, milone e fragola. In queste colorazioni brillanti vediamo proprio la lucentezza del cordino. Per le tonalità del blu abbiamo la colorazione mare, menta, blueberry e sky. Vediamo poi il chili, quindi si mescolano il rosso ed il nero, il gelso, pompelmo rosa e uva. E per concludere la colorazione khaki, noce, silver e cenere. Tantissime sfumature che vi permetteranno di giocare con le vari abbinamenti di colore. Questo cordino 100% made in Italy, quindi studiato proprio nella sua produzione esclusivamente per Tessiland, vi permetterà di creare borse, in particolare magari anche quelle con dei punti a rilievo, che verranno esaltati dalle sfumature del colore, ma anche dei portamonete, dei portaocchiali, insomma quelle lavorazioni per le quali magari si predilige uno spessore meno grande. La particolare struttura di questo cordino, studiato appositamente da Tessiland, farà in modo di non dover obbligatoriamente irrigidire le borse, infatti queste avranno già una loro rigidità, un loro sostegno. Un cordino adatto anche a chi è alle prime armi. Bene, arrivati a questo punto, non mi rimane che salutarvi, ma prima vi ricordo di attivare la campanella, di iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri canali social. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News! Al prossimo Tessiland